Se ieri Enzo Infantino, esponente della sinistra palmese, sulle pagine di Facebook aveva ironicamente definito la trovata del sindaco Giovanni Barone, ossia quella di spacchettare in due la delega sui lavori pubblici come di un capolavoro, oggi con un comunicato stampa Infantino lo appella come l'unico caso in Italia. A Palmi, dice ancora Infantino, d'ora in poi a dirigere il delicato settore dei lavori pubblici saranno due assessori, Melara e Pace, anzi tre se consideriamo la delega inerente la sistemazione delle strade cittadine affidate dal sindaco Barone al consigliere Surace. Enzo Infantino, esponente del laboratorio politico Progresso e Libertà, analizza così i nuovi cambiamenti della giunta palmese. Non manca un pizzico di ironia nelle sue parole, per una volta non ci sentiamo di criticare la scelta del sindaco, dice Infantino. A Palmi, in effetti, è un pullulare di cantieri, serviva quindi una task force dalle enorme capacità operative in grado di portare a termine le grandi e piccole opere. Francamente, al di là della facile ironia, dice ancora l'esponente della sinistra palmese, dopo questa ultima trovata, mutando il titolo di un bellissimo film del compianto Massimo Troisi, non ci resta che piangere. Secondo Infantino, a distanza di tre mesi nulla è cambiato. Barone, dopo la vicenda giudiziaria che ha coinvolto un suo assessore, aveva promesso un cambiamento epocale, anche sotto la spinta degli esponenti del nuovo centrodestra e del consigliere Surace. Per alcuni assessori con in testa Natale Pace, la sorte sembrava definitivamente segnata. 15 giorni fa, dopo una squallida manfrina, il sindaco ha invece confermato tutti gli assessori lasciando solo un posto vacante, quello che era occupata dall'assessore Isola, prontamente dimissionato per guai giudiziari. Il 18 febbraio la delega ai lavori pubblici era passata dall'assessore Natale Pace all'assessore Carmelo Melara. Una soluzione che evidentemente non ha soddisfatto pace che, secondo alcuni rumors, avrebbe minacciato di lasciare l'assessorato. Decisione che avrebbe fatto bene a prendere, visti i danni che ha combinato a partire dalla scandalosa gestione di Villa Repaci. Secondo l'esponente della sinistra palmese, a quanto pare la minaccia ha prodotto i suoi effetti. Barone, dopo 15 giorni, ci ha ripensato. Incurante dei mal di pancia del consigliere Surace, che non voleva pace in giunta, ma sensibile alle minacce, ha rimodulato le deluche e spacchettando quella dei lavori pubblici. All'assessore Carmelo Melara ha affidato la gestione delle piccole opere pubbliche di importo fino a 100 mila euro, mentre all'assessore Natale Pace ha affidato quelle per importi superiori. Una decisione che porta Infantino a porre una serie di interrogative. A cosa serve un'operazione del genere? Perché affidare a due assessori pratiche che vengono gestite dallo stesso ufficio? La gestione politica amministrativa di un comune importante come quello di Palmi non può diventare una distribuzione di caramelle. L'invito finale, rivolto all'amministrazione comunale, è un ritornello noto. Lo diciamo ormai da tempo, dice Infantino. La maggioranza di centrodestra ha portato nel balatro la città. Il sindaco farebbe bene a lasciare Palazzo San Nicola. Sono certo, finisce Infantino, che nessuno, a parte i suoi stretti sodali, lo rimpiangerà.